Dunque vorrei invitare sul palco, grande produttore, gigante del cinema, Menachem Golan. E lui ha prodotto più di 200 film, ha lavorato da Israele, dall'Europa fino a Hollywood, ha rivoluzionato la produzione indipendente, fu uno dei pionieri del nuovo cinema americano. Il mondo ha bisogno di un connesso, il cinema lo darà a te. Andate al cinema. Grazie. 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 Grazie.